Ciao ragazze, io sono Rosio, in questo video tutorial vi spiegherò come fare dei richiami sulle magliette. Questa tendenza va molto di moda ultimamente e a me piace un sacco, ma quando ho visto il prezzi sono davvero troppo esagerati. Per quello ho deciso di farle io e come sono venuta bene vi spiegherò anche a voi, così anche voi potete provare a farla. Cominciamo! Abbiamo bisogno di una maglietta monocolore, filo per ricami, un ago e se avete potete usare un telaio, forbici e una matita colorata. Dobbiamo misurare sotto il collo 4 ditte e facciamo un puntino e sotto questo puntino cominciamo a scrivere la frase che ci piace di più, un nome, quello già voi dovete scegliere cosa scrivere. Io sto scrivendo Girl Power di questa forma e anche sto usando una matita bianca. Dopo proseguo a infilare il filo di questa forma, solo un pezzettino e dopo andiamo alla fine e facciamo un nodo. Da lì dobbiamo mettere nel mezzo il telaio a livello da dove abbiamo scritto prima. Non dobbiamo stringere troppo così non lascia i segni sulla maglia. Cominciamo a ricamare di questa forma che esce l'ago e altra volta torna dietro. Io ho imparato a ricamare di forma materiale per quello lo faccio di questa forma. Se voi sapete un altro punto potete usarlo. Come vedete torna tutto il filo e altra volta torna. E così proseguiamo e dobbiamo finire tutta la scritta che abbiamo fatto. Come vedete il telaio è utilissimo perché permette di ricamare di forma veloce. Qua io sto facendo l'ultimo punto. Giriamo e facciamo due nodi così non perdiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto. Tagliamo e voilà. Qua vi mostro la maglietta che abbiamo appena finito e altre due che io ho fatto prima. Quella l'ho fatto con filo rosa e non si vede l'escritta. E questa un'altra. L'abbiamo finito! E così abbiamo finito questo videotutorial. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace e non dimenticatevi di iscrivervi sul mio canale. Ci vediamo alla prossima! Bye!